Nonostante il Tai Chi sia nato a livello così alto, il Tai Chi moderno insegnato nelle varie scuole a livello molto basso. Sono quasi tutti sul livello del corpo, sono rare eccezioni che arrivano al Chi. Ma quasi nessuno capisce il livello mentale ed emozionale del Tai Chi. Un po' quando inizi a muovere il Chi ha un buon effetto anche sulle emozioni. Ti accorgi che quando inizi a muoverti col Chi diventi più calmo e più sereno. Ma non sono tante le persone che riescono a praticare in questo modo. Per noi non solo dobbiamo imparare a praticare così, dobbiamo andare ancora più in alto fino a livello causale. L'unico modo per arrivare a livello causale a praticare senza identificarsi col corpo, l'emozione e la mente. Devi esserci insieme ma sempre indipendente dal corpo e l'emozione e la mente. Come si può fare questo? Devi trovare chi sei a livello causale, che è il livello più esterno di chi sei veramente. Ed è rappresentato dalla attenzione. Vedi, devi prestare attenzione al tuo corpo, alle emozioni e alla mente. Da dove viene questa attenzione? Che qualità è? Ed è la qualità principale di chi sei veramente a livello causale. L'attenzione non è una qualità della mente come pensiamo, è una qualità del pensiero causale. La mente pensa, però se ci pensi ti dici, io posso anche osservare i miei pensieri. E colui che osserva i pensieri è il tuo vero sé, a livello causale. Questo vuol dire che quando sviluppiamo l'attenzione, si diventa più libero e si identifica non con il corpo, l'emozione e la mente. Quindi praticamente divento più libero perché smetto di identificarmi con il mio corpo e le mie emozioni e la mente, ma mi identifico solo con chi sono veramente. Però io posso anche prestare attenzione all'attenzione. Allora inizi ad identificarti con chi sei ancora più veramente, più nell'essenza. Quando ti muovi devi sviluppare l'attenzione al tuo corpo e allora poi inizi a prestare attenzione a come presto attenzione al corpo. Quando riesci a fare questo, a prestare attenzione al corpo, diventi te stesso. E questo è infinitamente più importante della parte tecnica. Quando è stato creato il Tai Chi non è stato creato come tecniche di arti marziali, ma per sviluppare l'attenzione dell'attenzione. Perché quando arrivi a scoprire che sei veramente, magari non riesci ad arrivare ai livelli superiori, ma quantomeno inizi a vederli. E se li vedi puoi già trovare la parte più veloce e si accelera il processo. Quindi l'idea del Tai Chi è ascendere tramite l'evoluzione al raggiungimento del Tao. Tao è la via che porta all'ascensione evolutiva verso la parte più alta di te stesso. E come frutti di questa pratica ovviamente ti diverti, impari a difenderti e sviluppi il tuo corpo, ma sono dei prodotti. Perché è comunque importante per l'essere umano anche divertirsi, imparare delle tecniche. L'essere umano deve in ultima istanza imparare a essere in salute, felice e libero. E ci spiega queste cose perché così capiamo qual è l'obiettivo del Tai Chi. Non tanto imparare i movimenti giusti, ma sentire queste ascensione. Perché se prendiamo il Tai Chi da questo punto di vista, anche la parte tecnica diventa più veloce e facile da prendere. Dobbiamo identificarci solo con chi siamo veramente. Quando questo succede è una sensazione di illuminazione. e tutti noi possiamo raggiungerla già oggi. Se riusciamo ad applicare esattamente quello che ha detto, la raggiungiamo. oggi non la sorgente iniziale, non tutta l'illuminazione, ma almeno una piccola parte dell'inizio del processo. Ma non c'è molta differenza. Ma non c'è solo un'importanza di avere fanno. E poi ci sono diventati divertenti. Ok? Grazie. 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 Grazie.